E' da ieri pubblicato l'avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di ausiliari pulitori della Sanità Service ASL-BT. Dopo il via libera della giunta regionale di aprile scorso al piano assunzionale delle società di servizi delle aziende sanitarie locali pugliesi, ecco la proda ad uno step importante che sbloccherà nelle prossime settimane l'arrivo nelle strutture ospedaliere della sesta provincia di 49 unità da assumere subito, poi la graduatoria potrà prevedere eventuali altri scorrimenti. Il turnover per la Sanità Service, dunque la sostituzione di pensionamenti in particolare, era completamente bloccata da marzo 2020. Nel tempo però le aziende di servizio hanno visto affidarsi altri servizi a regime, comunque secondo la pianta organica approvata dalla regione per la Sanità Service ASL-BT dovranno essere 117 complessivamente le nuove assunzioni. L'avviso pubblicato ieri prevede naturalmente un concorso teorico pratico che si espletterà in un'unica prova con un test a risposta multipla, oltre alla valutazione dei titoli, nei criteri di selezione ampio spazio ai titoli di servizio ma anche specifici. La scadenza per l'inoltro delle domande sarà il 16 luglio 2024 agli ore 18. Soddisfazione è stata espressa dall'amministratrice unica di Sanità Service ASL-BT Anna Chiara Rossello e dalla direttrice generale dell'ASL-BT Tiziana Di Matteo. Entrambe hanno ringraziato il grande sforzo profuso in questo periodo dai lavoratori e dalle lavoratrici pur fortemente sotto organico.